In studio, anche per capire davvero dell'Italia e dell'Europa, che cosa possono fare, Federico? Guarda, Concita, mi viene in mente, mentre Francesco parlava, non ho potuto fare a meno di pensare a quello che dice Gary Kasparov, uno dei grandi ex campione mondiale di scacchi, uno dei grandi oppositori con Navalny, di Putin. Kasparov dice, ci sono degli stati che hanno a loro interno una mafia. La Russia è unica perché è una mafia che ha uno stato. Questa è la situazione della Russia oggi. Dunque, non credo che sia nell'interesse del paese, Russia, rischiare una guerra per il controllo del Mar Nero. L'Ucraina non ha mai minacciato di bloccare il Mar Nero, peraltro, e non avrebbe la capacità militare di bloccare il Mar Nero di fronte alle potenze che ci sono. La Turchia è il più grande esercito della Nato, dopo gli Stati Uniti. E credo che come numero di soldati, addirittura superiore agli Stati Uniti, come numero di soldati... E quindi, se è vero questo, dal punto di vista militare, che cosa gli interessa ai russi? Allora, se uno guarda il bilancio della Russia, capisce che paese è. Questo è uno dei paesi, diciamo, nell'area, diciamo, tra i grandi paesi del mondo, che spende meno in sanità, in educazione, in, per esempio, edilizia per le classi popolari, che spende meno per la società russa, che è in povertà, malgrado le incredibili ricchezze, ed è una delle società al mondo, tra i 15 e i 20 più grandi paesi, dopo l'Arabia Saudita e forse Israele, è quello che spende di più in spesa militare. Cioè, questo è un regime che ha modernizzato l'esercito invece della società.